Silvana Comaroli, nella legge di stabilità si evidenzia un nuovo favore al Sud, in particolar modo verso Palermo e Napoli. Di cosa stiamo parlando? Purtroppo è vero e con grande rammarico dei lavoratori socialmente utili. Non si capisce come mai questo governo stanzi per questi lavoratori di Napoli e Palermo 99 milioni. E solo un milione per tutti gli altri comuni, comuni d'Italia che sono più di 8 milioni. Quindi 99 milioni a due comuni e guarda caso al Sud e solo un milione praticamente bricciole per tutti gli altri comuni. Noi su questa cosa combatteremo strenuamente perché i comuni del Nord sono identici ai comuni del Sud. Anzi no, forse sono diversi perché al Nord sono comuni virtuosi, al contrario di quello che avviene al Sud.